Dal 2 ottobre 2023 anche nella BAT si potrà partorire senza dolore, la ASLOBT ha infatti annunciato che nelle unità operative di ostetricia e ginecologia degli ospedali di Andrea Barlette Biceglie, punti nascita della sesta provincia, parte ufficialmente la tecnica del parto in analgesia, un metodo che ridurrà sensibilmente i dolori del travaglio. Prevede appunto l'inserimento di un ago, di un cateterino nella colonna vertebrale della donna, la quale avvertirà comunque le contrazioni, ma le contrazioni non sono dolorose. Questo permetterà chiaramente alla donna di collaborare molto meglio e soprattutto di avvertire meno dolore. Per arrivare a questo risultato il personale medico della ASLOBT è stato adeguatamente formato. È il risultato di un lavoro abbastanza complesso che è stato posto in essere in questi mesi, sia diciamo di riorganizzazione ma anche di formazione dei nostri professionisti, quindi degli anestesisti, delle ostetriche, dei ginecologi ma anche dei pediatri. E questo ci consentirà di partire il 2 ottobre in totale sicurezza. Scusate il ritardo, ha poi aggiunto il direttore sanitario Alessandro Scelzi, il parto in analgesia, infatti, è previsto nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, fondamentale il sacrificio del personale attuale della ASLOBT nel coprire le assenze di coloro che si sono sottoposti alla formazione. Ricordiamo che i medici sono pochi, quindi aver mandato con sacrifici di tutti a imparare questa nuova metodica che in passato già si è fatta nella BAT, ma risaliva a tempi dove le metodiche erano un po' diverse, merita un ringraziamento particolare. Tutti quanti i professionisti che si sono sacrificati per mettere a disposizione la loro competenza verso le donne. Al buon uomo di Andria si giungerà presto ad un servizio H24 del parto in analgesia. Intanto, con l'arrivo della tecnica in dolore, l'obiettivo è non far allontanare le neomamme in altre città pugliesi. Ad Andria era già presente sino al 2011 e già ad Andria siamo pronti perché tutto il personale si è formato al Gemelli per quanto riguarda le ostetriche medici e a San Giovanni Rotondo per quanto riguarda il servizio di anestesia. Speriamo che partendo di nuovo a regime si vadano a recuperare tutte quelle signore, non tantissime per Andria, ma una quota importante, che si perdono al momento al territorio e vanno verso altre realtà vicine.